Acciaio inox, la domanda langua, i prezzi sono in calo, anche export e import sono in diminuzione, si guarda al secondo semestre per una lenta cauta ripresa, persistono le preoccupazioni per l'inflazione. Lieve ripresa dei prezzi dell'acciaio e carbonio sul mercato nazionale, carbon cilindex su dell'1,1% dopo 12 settimane di cale diffusi, inox ancora in sofferenza, lo dice l'ultima rilevazione dell'ufficio studi Siderweb. Acciaio verde, accordo tra Arvedi e Mercedes-Benz e i prodotti Arve Zero saranno utilizzati dalla casa automobilistica tedesca. Nuova edizione del Siderweb TG, ben ritrovati, dunque lo avete sentito, un momento difficile per l'acciaio inossidabile. I prezzi dei prodotti finiti sono diminuiti di circa il 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e la stagnazione della domanda, soprattutto nel secondo trimestre, induce i produttori ad abbassare i prezzi, sacrificando in parte i margini, una politica che però non potrà essere sostenuta a lungo. Se ne è parlato nell'ultimo webinar di Siderweb Mercato ed Intorni, a cui è intervenuto anche l'amministratore delegato di uno dei tre poli produttivi nazionali e tra i principali in Europa, Cognacce Speciali, Massimiliano Gurelli, nonostante le difficoltà, ha detto la marginalità, si sta mantenendo su livelli soddisfacenti anche nel 2023. Sentiamo. I prezzi medi di vendita sono in discesa importante e anche è vero però che se andiamo a vedere Rotame, Nickel, Energia Elettrica e Cromo, che poi sono quelli che spostano in alto e in basso il prezzo di vendita, noi riusciamo fortunatamente a vedere una marginalità che non è tanto erosa e quindi sicuramente la situazione rispetto all'anno incredibile 2022 è diversa, il contesto è diverso, i volumi non sono più positivi come lo erano un anno fa, ma la marginalità insomma tiene ancora. Quello che vediamo è sicuramente una marcia completamente diversa per gruppi di prodotto. Quindi se posso dire a Vergella si è vista una riduzione importante, sul mercato delle barre, quindi pelate o rettiviegato trafilate, è chiaro che la situazione è completamente diversa. Voglio citare il mondo aerospaziale che come sappiamo è un mercato, definiamolo impazzito nel senso che i produttori di aeromobili vorrebbero produrne molto di più ma non riescono a trovare la materia prima e quindi in questo contesto noi siamo saturi alla fine dell'anno prossimo e lì se potessimo produrre 5 volte tanto avremmo potuto vendere 5 volte tanto. Dalla produzione di acciaio inox alla distribuzione, la corsa al ribasso dei prezzi è quasi terminata e il peggio è passato, lo ha detto Alessandro Bettuzzi, amministratore delegato di Oiki e coordinatore dei centri servizio inox di Assoferme. Il settore dell'acciaio ha subito uno sbalzo di prezzi francamente senza precedenti. anno su anno, se facciamo riferimento a maggio 2022, a maggio 2023 il valore dell'acciaio inossidabile ha quasi perso 2850 euro tonnellata. È chiaro che questi sbalzi non sono sani, non sono sani per l'industria, ovviamente anche per i ruoli dei centri di servizio c'è stata una difficoltà enorme e quando il prezzo strappa così tanto, eravamo arrivati tanto per avere un riferimento circa a 5500 euro tonnellata prezzo della distribuzione dell'ambiente a freddo 2B304, è chiaro che l'industria è arrivata ad un rifiuto del prezzo e questo ha sicuramente generato un blocco totale della domanda. L'elettrodomestico registra un meno 25%, quindi hanno dovuto rivedere il forecast sul 2023 in maniera veramente drastica. Registriamo anche un forte calo attorno al 20% anche sul catering. E non ultimo, devo anche citare, secondo me anche il momento dei tubifici non è particolarmente brillante. Il prezzo è anche diminuito, secondo il mio punto di vista, anche per un eccesso di stock. Ancora nella distribuzione, questa volta dei lunghi, Chiara Cormanni, Accounting New Business di Piattine e Profili Inox, ha detto che dopo l'estate potrebbe registrarsi un modesto miglioramento della situazione. Il 2023 è partito come ci aspettavamo poi già verso la fine del 2022, ossia con una forte diminuzione della domanda. Quindi anche noi abbiamo sentito quello che il mercato sta vivendo. Molteplici sono i fattori che hanno portato a questo rallentamento, sicuramente i prezzi del nickel del 2022 molto alti, che poi hanno portato anche a una fortissima domanda durante il corso dell'anno, un po' per la paura della mancanza di materia prima. E quindi abbiamo tutti gli stock molto pieni. Le quote di importazioni dall'Oriente, così come il costo dei noli. Insomma, ci sono stati tantissimi fattori che hanno portato l'anno scorso a essere un anno fuori dal comune, un anno straordinario e quindi questo 2023 sta un po' scontando quello che è successo l'anno scorso. Sicuramente ci aspettiamo anche i prossimi mesi ad avere un andamento simile a questo primo semestre. Non ci aspettiamo un peggioramento, crediamo anche noi in un cauto miglioramento dovuto essenzialmente a una ripresa un po' della domanda, perché comunque gli stock che stanno scendendo, la stessa cosa vale per noi, quindi poi lo vediamo anche nei nostri clienti. Quindi insomma, speriamo che ci sarà un pochino di ripresa di dinamicità. E intanto nel primo bimestre dell'anno, a conferma di quanto appena descritto dagli operatori, si è fermata la corsa all'import nazionale di Inox. Dall'analisi dell'ufficio studi Siderweb. Gli arrivi sono scesi del 74% rispetto allo stesso periodo del 2022, fermandosi a poco più di 81.500 tonnellate. Il carro maggiore l'hanno fatto registrare. Le importazioni dei paesi extraeuropei, meno 84%. Tra i principali fornitori risultano in particolare a Fanno, Cina, Taiwan e Turchia. Passiamo ora dall'Inox all'acciaio al carbonio. Lo facciamo con l'annuncio ufficiale arrivato dal gruppo Arvedi, la firma del contratto con Mercedes-Benz per la fornitura di acciaio verde Arv Zero. Un accordo che era stato anticipato durante la conferenza ed exibizione internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio made in steel da Mario Arvedi Caldonazzo. Ascoltiamolo. Un accordo per la fornitura di acciaio a zero emissioni di carbonio con l'obiettivo di costruire una Green Supply Chain è quello che hanno siglato a Cremona il gruppo Arvedi e Mercedes-Benz. Il colosso tedesco dell'automotive acquisterà l'acciaio Arv Zero, prodotto con la tecnologia Arvedi ISP a emissioni nette di CO2 pari a zero, scope 1 e scope 2 del Greenhouse Gas Protocol. Dell'accordo si era già accennato durante l'ultima edizione della conferenza ed exibizione internazionale della filiera siderurgica made in steel. Stiamo parlando con tante altre case automobilistiche e da lì viene. Io vedo il driver nell'industria auto ma qui in sala ci sono tanti amici e clienti che hanno tanta voglia di, mi dicono, lanciare una loro linea di prodotto perché a loro volta sono sollecitati. Poi bisogna scrivere le regole. Noi abbiamo provato a farlo e lo abbiamo fatto in autonomia. Non è il primo accordo del genere che Mercedes-Benz ha siglato in questi mesi con i produttori siderurgici europei. Tra i suoi fornitori di acciaio verde figurano anche Salzgitter, ThyssenKrupp, Festa Alpine, SSAB e H2 Green Steel. Ancora sul mercato nazionale con Profilmec che ha acquisito il 90% di lavorazione industriale fili, l'IFI SRL che produce tubi in acciaio lavorati per il settore automobilistico. Il restante 10% rimarrà in capo al gruppo Proma, conferma dell'alleanza strategica tra i due gruppi. L'investimento ha spiegato Gianfranco Imperato, amministratore delegato di Trustil, cui fa capo Profilmec. Consolida la nostra volontà di investire e continuare a crescere, cogliendo le opportunità del mercato e amplia la nostra gamma di prodotti, permettendoci di raggiungere mercati mondiali ancora non serviti. Diamo ora uno sguardo all'andamento dei prezzi sul mercato nazionale, così come rilevato dall'Ufficio Studi Siderweb. Dopo 12 settimane di cali sul mercato dell'acciaio italiano, l'ultima rilevazione delle quotazioni dei prodotti siderurgici effettuata da Siderweb segna un'inversione del trend ribassista per l'acciaio al carbonio, che vede quindi prezzi in lieve crescita. Tra le quotazioni rilevate si è registrato un aumento per 24 dei 44 prodotti. Nei piani in acciaio e carbonio i coglis si apprezzano di circa 15 euro la tonnellata, segno più anche per le quotazioni del rottame. Fanno eccezione tra i rincari e le lamiere inox, che confermano la tendenza al ribasso delle settimane precedenti, con picchi fino a meno 70 euro la tonnellata. Il Carbon Steel Index cresce dell'1,1%, mentre lo Scrap Index testimonia un più sostenuto aumento del più 2,72%. Lo Stainless Steel Index ha continuato a muoversi al ribasso, segnando una variazione del meno 2,08%. Per tutti i dettagli basta consultare l'area prezzi di Siderweb.com. E a proposito di prezzi, AFV Beltrame Group ha annunciato che all'inizio della prossima settimana aumenterà di 20 euro la tonnellata alle quotazioni, sia sul mercato nazionale che su quello europeo. Si ricorrerà a fermate produttive per riequilibrare domanda e offerta e il gruppo non esclude l'eventualità di anticipare le fermate estive con un mercato che continua a essere estremamente calmo e costi energetici in aumento. Questa era la nostra ultima notizia, ma prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con il prossimo webinar di Siderweb. Martedì 18 luglio, in diretta su Zoom, dalle 11 si parlerà di logistica, tra mercato e rivoluzione green, le sfide future del settore e il rapporto con la siderurgia. Nella prima parte interverranno Gian Enzo Ducci di Esa Group e Unigè e Massimo Marciani di Freight Leaders Council, che inquadreranno i principali trend e le sfide della logistica. Nella seconda parte Francesca Morandi di Siderweb. Intervisterà Nadia Di Santo di Mercitalia Rail e Sergio Mazzucchelli di Zaninoni Holding. Come sempre la partecipazione è gratuita, basta iscriversi nell'area eventi webinar di Siderweb.com oppure da mobile con l'app Siderweb Eventi. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo venerdì prossimo. Arrivederci. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo venerdì prossimo.